L'email e il numero di cellulare scelti come riferimento per la tua casella PEC sono importanti. Che si possieda una PEC, ad esempio nome-casella-pec.it, o una PEC su dominio, ad esempio postmaster-pec.miodominio.it o nome-casella-pec.miodominio.it, tali dati sono utilizzati da Aruba come canale di contatto riservato per le comunicazioni relativi alla sicurezza della casella, come il reset password. Per verificare o modificare i dati di contatto della tua casella PEC, accedi al pannello account.aruba.it con il tuo indirizzo di posta elettronica certificata e la password. Dal menu di sinistra, clicca E-mail e cellulare. In corrispondenza del campo E-mail, viene mostrata l'e-mail. Nel caso l'avessi già validata, occorre eseguire l'apposita procedura. Nel caso l'e-mail non fosse corretta, è possibile modificarla durante la verifica. Clicca quindi su Verifica. Confirma o modifica l'e-mail visibile. Cliccando Invia codice via e-mail, il sistema spedisce a quella e-mail un codice di verifica monouso. Nel caso il codice non arrivasse, è possibile richiederlo nuovamente tramite il link Invia di nuovo. Inserisci il codice ricevuto nel campo Codice di verifica. Al termine, clicca Verifica. Il sistema confermerà la corretta validazione con un messaggio. Clicca OK per tornare alla schermata iniziale. Esegui la stessa procedura per modificare e verificare il numero di cellulare di contatto.